Ciao, in questo video volevo condividere come sta andando il mio terzo trimestre di gravidanza. Sono un'ostetrica e sono in attesa del mio primo bimbo. Vi spiego in questo video come mi sta vivendo gli ultimi mesi. Ciao a tutti, benvenuti su questo canale. Se non mi conoscete mi chiamo Ilenia, sono un'ostetrica che attualmente vive e lavora nel Regno Unito e sono in attesa del mio primo bimbo. Intanto non so se siete già stati qua, se mi conoscevate già, comunque mi sono resa conto che non ho mai annunciato ufficialmente cosa sto aspettando. L'ho fatto sul mio canale, sulla mia pagina Instagram, quindi ve la metto qui se volete vedere e sapere quando partorisco e le ultime cose che stanno succedendo, però sto aspettando un maschio. Non ha nome per il momento, io e il suo papà ne abbiamo 3-4 e probabilmente sceglieremo alla nascita a questo punto quale dargli. Che è una cosa molto comune qua nel Regno Unito, quindi posso capire che può essere un po' strana, ma qua è assolutamente normale. Anzi, già è strano che sappiamo il sesso. Comunque, a parte tutta questa introduzione, sto facendo una serie sul mio canale su tutte le settimane di gravidanza, raggruppate in mesi e trimessi. Quindi ho appena pubblicato la serie sul terzo trimestre e mi piaceva concluderla parlando del mio terzo trimestre. Intanto il terzo trimestre va dalla ventottesima settimana alla quarantaduesima settimana, forse quello più lungo. Quindi ci sono tantissime cose che succedono, sono successe e succederanno. Non so se un video basterà. In questo momento, mentre registo, sono circa 36 settimane di gravidanza. E vediamo perché, dipende quando vuole nascere questo bambino, se passerò la data presunta del parto, che è una cosa molto probabile essendo il mio primo figlio, farò un altro aggiornamento, giusto per capire cosa succede nelle ultime settimane. Però qua ci concentriamo su quello che ho vissuto fino adesso, dalla ventottesima, insomma, alla trentaseiesima. E cosa sto facendo in preparazione del parto. Sono state sicuramente le settimane in cui la mia pancia esplosa di più, sono comunque piccolina di statura, quindi si è vista dall'inizio, però sicuramente adesso è una bella panciona. Nonostante questo, lui misura bene, quindi non è un bambino particolarmente grosso, tutti i controlli sono nati sempre molto bene. Sono fortunata che ho una gravidanza fisiologica, che fino adesso non mi ha dato veramente nessun problema, e di questo ne vado molto fiera, perché in parte è anche merito mio, però capisco che c'è un fattore anche fortuna, perché molte gravidanze a rischio, poi appunto non potete controllare il motivo del rischio. Quindi, di nuovo, sento di essere fortunata, sento di dover celebrare questa cosa, e sto cercando di fare tante attività, infatti per me, che mi mantengono in salute e felice, perché è molto importante. Intanto, come dicevo, nella serie del terzo trimestre, qui nel Regno Unito non si fanno particolari controlli ecografici, a meno che non ci sia un problema, per le gravidanze fisiologiche io mi trovo nel Regno Unito, però vedo la mia estetica regolarmente, e ogni 3-4 settimane, dopo la quarantesima settimana, i controlli si intensificano, diventano ogni due settimane, o anche ogni una settimana, dalla trentottesima settimana, anzi. Perché appunto ci avviciniamo alla fine? E proprio perché sono le settimane più importanti? Trovo che in Italia sia l'opposto, in genere ne avete un'ultima trentasei, e poi non vi si vede più, a meno che non siete seguiti da una estetica anche in Italia. E invece è importantissimo che appunto qualcuno vi monitori nelle ultime settimane. Comunque dicevo, il mio pancione è cresciuto tanto, i movimenti sono continui, è un bambino che si muove tantissimo, e questo è un buonissimo segno di benessere fetale, quando i bambini si muovono. Incoraggio sempre tutte le mamme a recarsi da pronto soccorso, se notano un cambiamento dei movimenti fetali. Altri cambiamenti fisici che sono successi? Penso di avere più capelli, forse sono cresciuti un po' di più, che è normale, in realtà non crescono di più, ne cadono di meno, quindi di conseguenza sembrano più folti, purtroppo a volte cadono un po' nel postparto, vedremo come andrà. Ho avuto un aumento di peso normale, medio, per la gravidanza, anche lì basta seguire una dieta variegata, un'alimentazione sana, cerco di mangiare proteine, però nemmeno senza troppo stressarmi, mangio quello che mi va in realtà, e quello che il mio corpo mi chiede. Prendo le mie vitamine tutti i giorni, prendo anche in aggiunta dei probiotici, che mi piacciono tanto per mantenere la flora intestinale equilibrata, molto importante, in gravidanza, ovviamente voi sentite sempre il vostro curante per quanto riguarda cosa prendere in gravidanza. Altri cambiamenti fisici che sono successi? Ho la linea negra, quindi quella linea che è dovuta all'iperpigmentazione della pelle, la pelle è molto tirata a questo punto della gravidanza, pizzica, cerco sempre di metterci tanta crema e tanto olio per mantenerla idratata. La sera mi si iniziano a gonfiare un po' i piedi, cerco di bere sempre tantissima acqua, difficile, però vedo che la differenza c'è molto, e ho iniziato a bere tante Braxton X. Dalla 32-33esima settimana, ne sento veramente abbastanza, sono tranquilla perché non sono dolorose, e sono in genere serali, e le sento di più, per esempio nelle giornate in cui sono stata molto in piedi, sono stanca, quindi proprio la classica definizione da Braxton X. Ho finito di lavorare finalmente, quindi sono in maternità, va tutto decisamente meglio da quando sono in maternità, perché fare questi video è la mia passione, mi diverto tantissimo, quindi questo è un lavoro, mi impegna, ma è sicuramente meno impegnativo per me del lavoro d'ostetrica in ospedale a tempo pieno, quindi sto cercando di prendermi tanto tempo per me, per fare passeggiate, leggere, cercare proprio di dedicarmi a me, e proprio godermi le ultime settimane da sola, o con il mio compagno, perché saranno momenti che non torneranno mai. Mi sono dedicata anche in queste settimane, da quando sono in maternità, alla costruzione di un videocorso, perché non riuscirò a continuare con i corsi live, che in questo momento, mentre registro, sto finendo, quindi le copie che sono con me, grazie, perché è sempre stato un po' difficile organizzarsi in queste ultime settimane, appunto dovuto al fatto che non si sa mai cosa può succedere, però sto finendo con gli ultimi corsi live, e credo che nel frattempo con questo video esca, saprete più dettagli sul videocorso, comunque ho creato un videocorso bellissimo su una piattaforma, in cui possiamo anche parlare tra di noi, in cui andrò live, c'è una community, e il videocorso sempre in aggiornamento, e tra l'altro farò un altro modulo tutto dedicato alla cura del neonato una volta che ogni bambino sarà nato, quindi immagino ci saranno informazioni nell'info box, a questo punto andate a vedere nell'info box, oppure scrivetemi un'email per saperne di più. la palla e il cuscino sono i miei due migliori amici, passo tantissimo tempo sulla palla, ci faccio i pasti, cerco di quando studio, quando leggo cerco di stare sulla palla, perché ovviamente aiuta tantissimo nell'impostare la pelvi, e comunque anche per la schiena farmi stare più comoda, mentre il cuscino della gravidanza è importantissimo per dormire, che sicuramente è una cosa che sta diventando sempre più difficile mano a mano, le settimane vanno avanti. Avendo lavorato abbastanza fino alla fine, sono un po' indietro con la preparazione, sto cercando di recuperare, però non ho ancora fatto la borsa per il parto, non prendere esempio da me, si consiglia di farla entro la 35esima settimana, so cosa va dentro, ma devo solo mettermici e effettivamente mettere i vestiti e le cose dentro, e sto cercando di capire appunto cosa serve per il bambino di essenziale, perché ovviamente essere statica da tanti anni mi aiuta a capire cosa serve e cosa non serve, non viviamo in un appartamento grandissimo, quindi sto cercando di ridimensionare le cose essenziali, però devo un po' recuperare, perché di nuovo è la mia prima gravidanza e sto dando per scontato che questo bambino nascerà dopo la data presunta del parto, però c'è una piccola possibilità che lo faccia prima, quindi non prendete esempio da me, sono una pessima ostetrica in questo, preparatevi prima. Come vi dicevo, il mio bambino si muove tantissimo, e è molto bello sentirlo, e io e il suo papà prendiamo del tempo proprio per parlargli, per toccare il pancione e proprio dargli queste attività sensoriali, perché i bambini sono pronti anche in queste settimane dentro l'utero per ricevere questi stimoli, quindi quando c'è un po' di sole vivo in Inghilterra, quindi non capita spesso, cerco appunto di mettere la pancia al sole e cerco di toccarlo, di stimolarlo spesso, di accarnezzarmi il pancione spesso, perché di nuovo le ricerche ci dicono che questo aiuta il bambino a sviluppare il suo sistema nervoso e neurologico. Ho la fortuna di non dover fare un corso pre-parto, perché mi ritengo abbastanza informata su questo, però è molto divertente, perché lo sto facendo al mio compagno, quindi ci stiamo preparando così, in questo modo, e sono molto tranquilla per il parto, è un evento che conosco molto bene, quindi questo ha i sui pro e i sui contro, però devo essere sincera, ha più pro che contro, e non partorirò in ospedale, se tutto va bene ovviamente, perché la gravidanza fa fisiologica fino a questo momento, però le cose possono cambiare nelle prossime settimane o anche in travaglio, quindi nel Regno Unito fortunatamente abbiamo tantissima scelta per dove poter partorire e ogni ospedale ha la sua casa maternità, quindi molto probabilmente è lì che andrò e sono stata seguita dall'ostetica per tutta la gravidanza, quindi farò altrettanto per il parto, ma poi vi aggiornerò ovviamente sul canale. Devo andare spesso in bagno, la vescica inizia a risentire del peso della testa, il mio bambino è cefalico e almeno due o tre volte a notte di viaggi in bagno li faccio, però è normalissimo, per questo è importantissimo cercare di riposarsi durante il giorno, usare un cuscino per la gravidanza per stare comodi, così che quelle ore che effettivamente si dorme siano produttive. È stato un bellissimo trimestre, il secondo trimestre rimarrà sempre il mio preferito, me lo aspettavo, perché è il trimestre in cui non si è così grandi a livello di pancione e si hanno tantissime energie. Il terzo trimestre comunque è faticoso per certi versi, però è stato bellissimo, non è finito, ci possono tranquillamente essere altre 4-6 settimane, quindi vi aggiornerò. Se volete aggiornamenti più day-to-day, seguitemi anche sulla pagina Instagram. Fatemi sapere come sta andando il vostro terzo trimestre, vi capisco, siamo tutte qua insieme, non importa che sono un'estetrica, anch'io lo sto utilizzando per la prima volta e quindi è pieno di emozioni anche per me e mi piace sempre condividerle con voi. Ci vediamo nei commenti, ciao! Ciao! Grazie a tutti.